Oggi sono venuta in un posto molto particolare a vedere la barca fantasma e mi è venuto in mente qualche gioco che magari ciascuno di noi faceva da bambino che sognava i pirati, sognava grandi avventure, magari sognava di fare qualcosa nella sua vita e poi è possibile che si sia dimenticato. È una cosa che molto spesso le persone purtroppo mi dicono io non so più sognare, non sono più capace di sognare non sono più in grado di vedere che cosa voglio realizzare nella mia vita e questo impedisce alle persone di avere una visione e quindi di realizzarla. Sono Patrizia Setteeducati, se ancora non mi conosci aiuto le persone che sentono di essere di più e si sentono incastrate in una vita che non sentono appartenergli a seguire il percorso della propria anima per realizzare e vivere la vita che desiderano una vita piena di significato dove possono esprimere chi sono dove possono trovare quel scopo che gli permette di sentirsi vivi e di sentire che stanno vivendo la vita per cui sono venuti qui. Ti stavo parlando appunto dei sogni perché è fondamentale che tu sappia sognare è fondamentale che tu sappia che cosa vuoi fare nella tua vita anche perché se non sai cosa vuoi fare nella tua vita come puoi realizzarlo? Ci sono molte persone che quando mi contattano mi dicono io alla fine non è che vorrei una vita straordinaria questo è il nome del percorso che ho creato proprio per aiutare le persone che ti ho descritto poc'anzi non sono più in grado neanche di immaginare una vita straordinaria non vorrei neanche una vita straordinaria vorrei, non so, un po' più di soldi vorrei un lavoro un pochettino più appagante non so, una promozione oppure andare un po' più d'accordo con il mio compagno con la mia compagna oppure fare le vacanze un po' più lunghe in posti un po' più carini ma questa non può essere la visione della tua vita e lo so che è un'arma di difesa questa perché se pensano troppo in grande hanno paura poi di non riuscire a raggiungere quella visione inoltre la società non è che ti insegna a sognare ti insegna ad appagare dei bisogni che sono connessi alle tue ferite del passato che sono connessi a quello che ti è accaduto e che ti ha fatto provare una carenza di amore di riconoscimento da parte degli altri che ti ha fatto sentire inutile ti ha fatto sentire che il giudizio degli altri era più importante di quello che eri tu ti ha fatto sentire magari carenza d'amore e ovviamente tutto questo cos'è? un bisogno che rimane inappagato e allora cosa succede? la società ti spinge a soddisfare quei bisogni attraverso delle pilloline che non possono guarire quella ferita ma che ti possono far sentire un po' meglio per un po' di tempo se ad esempio non ti sei sentito importante nella tua vita cosa succede? beh magari allora la società ti propone la macchina più grande fai questo viaggio così lo metti sui social e fai vedere che sei figo la gente ti sente più importante tu ti sentirai più importante per un attimo come puoi andare a risolvere quel problema in un modo che non ha l'intento di risolvere il problema? nel senso che comunque quando ti accontenti di una pillolina quando basi la tua vita non sul crescere, sul diventare la persona che hai la possibilità di essere, di diventare quello che hai la possibilità di esprimere, di vivere ma semplicemente sul sentirti un po' meglio questo crea un vuoto continuo nella tua vita e non ti porterà mai a risolvere la situazione e così tu continuerai ad avere sempre più fame della risoluzione di quel problema ma tutto questo non ti potrà pagare non potrà essere la soluzione reale e continuerai a sentire quel vuoto, quella mancanza uno, perché il tuo dolore rimane attivo rimane sveglio due, perché stai basando la tua vita su dei sogni che non sono sogni sono semplicemente delle compensazioni ai tuoi bisogni latenti se continui a vivere in questo modo sentirai a un certo punto che la stai sprecando questa vita santo cielo, tu non sei qui per stare un po' meglio di così tu sei qui per brillare, per esprimere quello che sei e farlo concretamente attraverso la tua vita, le tue scelte le azioni che compi nella tua esistenza niente di meno quindi è logico che questi palli attivi, queste pilloline non serviranno a niente sì certo, se andrai in vacanza sì, ti sentirai un po' meglio per quei dieci giorni anzi, se tu vai in vacanza dieci giorni i primi cinque giorni magari ah ti rilassi, ah che figo questo posto come mi piace stare qui, ah come sono affortunato va bene poi a metà vacanza comincia il declino e cominci a pensare oh mio dio devo tornare a casa oh mamma santa devo tornare a casa torno alla mia vita di tutti i giorni e cominci già a stare male quindi sono quelle fughe che non ti portano beneficio anzi a volte ti portano a sentirti molto peggio perché non sono la soluzione nel momento in cui ti basi su qualcosa che non ti porta la soluzione la tua vita non si riempirà di significato continuerai a sentire che la stai sprecando continuerai a sentire che manca qualcosa ed è così fondamentale ricominciare a sognare a spostare il tuo focus dall'appagamento dei bisogni a ciò che la tua anima ti sta suggerendo ti sta suggerendo con delle intuizioni ti sta suggerendo facendoti sentire che magari qualcosa non ti risuona e qualcos'altro sì ma tu cosa fai? ascolti l'ego che dice odio o paura oppure ho una certa età oppure non ce la farò mai ti racconto la storia di Cristina una ragazza che ho conosciuto alcuni anni fa faceva un lavoro molto apparentemente bello riconosciuto era la responsabile del personale di una grande azienda di Torino parlava quattro lingue era veramente una persona wow faceva una vita però che non sentiva sua si sentiva imprigionata in questo lavoro che la fagocitava completamente lavorava tantissimo e faceva qualcosa che non la faceva sentire appagata ma non solo non le faceva sentire un significato nella sua esistenza e quindi cos'è successo? abbiamo lavorato insieme e lei ha dovuto risvegliare i suoi sogni ha dovuto ricominciare a sognare ha dovuto contattare quella parte dentro di sé connessa alla sua anima e che le ha detto che cosa avrebbe dovuto realizzare nella sua vita e cos'è successo? è successa una magia lei praticamente si è trasferita in Africa è andata a lavorare per medici senza frontiere ha perso tutto il peso in eccesso che aveva acquisito perché era molto in sovrappeso quando l'ho conosciuta e ha cambiato completamente la sua vita intanto ti sto dicendo che è possibile cambiare vita dopo i 40 anni non hai scuse per non fare questo passaggio non hai scuse per limitarti non hai scuse per non vivere i tuoi sogni per non realizzarli per non seguire la tua anima anche perché è l'unico modo per realizzarti veramente e te lo dico perché io ci sono passata ci sono passate tante delle persone che ho aiutato e quindi ti posso dire che tutto questo è possibile sempre se tu lo vuoi ed è proprio per questo che io ho creato questo cammino questo percorso proprio per aiutare chi sente di essere di più perché io già da piccola lo sentivo e sentivo un grande disagio perché la gente attorno a me si adattava ad una vita che io guardavo con gli occhi sbarrati perché non mi apparteneva mi sembravano tutte menzogne le persone che si sentono di più che hanno paura di sprecare la loro vita e io questa ce l'avevo già da bambina quindi se la senti non è una cosa così strana almeno non siamo solo tu e io ma se ci sono tante persone come noi e vogliono dare significato alla loro vita non vogliono passare come una foglia nel vento vogliono fare qualcosa vogliono esprimersi vogliono vivere pienamente vogliono dare un senso a questa esistenza anche se hanno paura per fare tutto questo ci sono tre cose che sono fondamentali beh la prima è andare a lavorare su tutte quelle bagianate su tutti quei condizionamenti che ti sono stati inculcati dall'esterno ma non perché le persone che l'hanno fatto fossero cattive o contro di te ma semplicemente perché è quello che è stato insegnato a loro la società la religione la famiglia la scuola sono dei grandi condizionatori ti condizionano la vita e ti portano a vivere in un modo che tu non vuoi ti fanno sentire persino a disagio perché tu cerchi di essere chi sei questo va cancellato e devi imparare ad amarti per quello che sei e a capire che quando fai le cose che ti fanno sentire bene stai facendo le scelte giuste per te un'altra cosa fondamentale di cui abbiamo parlato è aprire la tua visione ricominciare a sognare perché se tu non hai una visione non puoi tendere da nessuna parte se tu vivi alla giornata così e non perché segui il flusso e perché sei illuminato ma vivi alla giornata perché se tu non hai una visione non sai cosa fare quindi vabbè ti barcameni vai avanti eccetera ma questo non è sicuramente qualcosa che ti può far sentire bene la tua visione va espansa avrai sentito dire dream bigger sogna più grande ma non perché tu debba essere ambizioso e diventare padrone dell'universo ma semplicemente perché è importante che tu ascolti te stesso il tuo grande sogno non sarà il mio non sarà quello di qualcun altro deve essere il tuo grande sogno qualcosa che ti permette di sentirti vivo pienamente qui sulla terra che la tua vita ha un senso e puoi realizzare quei sogni perché se tu sogni in grande e scrivi i tuoi sogni e poi non fai niente per realizzarli ovviamente non serve a nulla quindi realizzare quei sogni e in più avrai a un certo punto lavorato su tutta una serie di tematiche che ti limitavano su condizionamenti e sarai libero di entrare in contatto con te stesso con la tua anima quando hai lavorato su tutte queste tematiche sei libero di entrare in contatto con la tua anima sei in contatto con l'universo sei in contatto con il tutto e puoi tradurre nella tua vita concreta reale perché ovviamente sì certo io ti parlo di spiritualità ma ricordati che la tua vita è la cosa più spirituale che possa esserci la spiritualità non è qualcosa di astratto volare con gli angeli la tua vita è la prova della tua spiritualità la prova di quanto sei connesso di quanto sei nel flusso di quanto stai facendo le cose giuste per te quindi se vivi bene stai facendo qualcosa di buono se vivi male no c'è probabilmente qualcosa da mettere a posto questo non serve a colpevolizzarti ma serve a farti comprendere la tua anima ti dà due schiaffoni per farti capire guarda che non stai facendo la cosa giusta guarda che devi cambiare qualcosa nel momento in cui hai lavorato su tutta una serie di tematiche sei più pronto ad ascoltarti e sei pronto ad entrare nel flusso della vita perché la tua anima possa dirti cosa è bene per te e quando segui la tua anima fai le scelte giuste non senti più quell'incertezza quell'insicurezza quelle paure che ti fanno desistere ma senti quella forza senti sto facendo la cosa giusta non so dove mi porterà esattamente ma sento che è di qua che devo andare immaginati che cos'è tutto questo ti dico che avrai sentito parlare di alcuni miei allievi ho già postato alcune testimonianze ne troverai altre nei prossimi giorni e tu vedrai come loro stanno realizzando tutto questo anch'io l'ho fatto non so se conosci la storia della mia vita quando ero bambina avevo questa tendenza ad aiutare le persone sentivo che dovevo fare qualcosa per cambiare questo mondo poi mi sono anch'io adattata ad una vita che non sentivo appartenermi sì va bene poteva essere una bella vita ma non è importante quello che tu fai fuori puoi essere un professionista di successo puoi fare quello che vuoi ma è come ti senti dentro che fa la differenza io mi sentivo morire a fare quello che facevo e a un certo punto ho iniziato a seguire la mia anima e a cambiare le cose e questo ha cambiato la mia vita io sono molto più felice mi sento molto meglio con me stessa sento che sono nel punto giusto a fare la cosa giusta e se tutte queste cose ti risuonano se questi sono anche i risultati che tu vuoi ottenere ti suggerisco di fare quello che senti dentro di te di ascoltare quella vocina e se vuoi un aiuto per fare questi passaggi se anche tu vuoi ricominciare a sognare e realizzare i tuoi sogni se anche tu vuoi una vita appagante piena di significato allora iscriviti alle selezioni per il percorso intensivo avanzato vita straordinaria e se risulterai pronto a fare questo passaggio e se sarai pronto a fare ciò che è necessario bene sarà nostro piacere aiutarti a fare questo passaggio meraviglioso e trasformativo per la tua vita ti mando un abbraccio e ti auguro il meglio ciao e a presto grazie a tutti